Sono molto contento di essere qui, sono un paio di anni che seguo questa squadra, ho visto i successi che è riuscita a conquistare nella doppia competizione, spero di poter portare il mio e fare del bene qui. Non ho accettato immediatamente, tuttavia Avellino era una delle prime opzioni sulla mia lista, è stata una trattativa normale, come ce ne sono molte e adesso sono qui. Mi aspetto un campionato molto competitivo, non sarà facile, soprattutto quando sei una squadra che è competente. Mi aspetto un campionato molto competitivo, non sarà sicuramente facile perché ci sono molte squadre che perseguono lo stesso obiettivo, per cui dobbiamo lavorare duro, dare il meglio di noi stessi ogni volta che scendiamo in campo contro qualsiasi squadra che affronteremo. Ci ho già parlato ieri, aiuterò la squadra nello spot di guardia, sono un tipo di giocatore che tira, che può difendere, che prende molti rimbalzi, ma in generale sono qui per fare tutto ciò che mi viene richiesto, mi farò trovare pronto in base a quelle che saranno le richieste della squadra per aiutare il più possibile, questo è quello che mi ha chiesto il coach. Sì, ho parlato con molti ragazzi, mi piace l'atmosfera, mi sento che hanno creato una buona atmosfera dentro del team. Ho parlato con i ragazzi e ho percepito che c'è una bella atmosfera all'interno dello spogliatoio, ho notato che c'è già la giusta chimica anche se ho fatto soltanto un allenamento con i ragazzi, tuttavia una squadra che ha raggiunto sette vittorie di fila deve per forza esserci in un ambiente coeso e appunto come dicevo c'è la giusta chimica. Quindi sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare, per quel poco che ho parlato con i ragazzi mi piacciono tutti, sono tutti, sembrano dei ottimi compagni di squadra. In Turkey, I was still practicing with the team, I was doing everything normally. Effettivamente mi sono allenato lo stesso da solo in Turchia dopo la fine dell'esperienza con la squadra, quindi fisicamente mi sento al meglio. Adesso sono un po' stanco a causa dei vari viaggi ma credo che dopo i prossimi allenamenti tornerà tutta la normalità e sarò già pronto ed è a disposizione della squadra. Sì capisco l'importanza di questa partita anche perché il coach me ne ha parlato, ha detto che dovremmo fare il possibile per vincerlo specialmente davanti al pubblico del Palo del Mauro. Posso sentire però che c'è già la giusta concentrazione da parte di tutti i compagni e sicuramente l'intensità sarà al massimo. Cercheremo di prendere sempre i tiri giusti e fare il possibile per portare a casa questo match che sarà comunque determinante.